Noi abbiamo sempre creduto nella importanza della riabilitazione respiratoria per i pazienti operati per tumore del polmone o da operare per tumore del polmone. Per questo è da tanto tempo che abbiamo avviato una collaborazione con l'unità di medicina riabilitativa che mette a disposizione fisiatri e fisioterapisti dedicati per i pazienti che devono essere operati o che sono stati operati per tumore del polmone. L'attivazione di questo ambulatorio al policlinico aggiunge un tassello ulteriore a questo percorso, in particolare il fatto che si trovi al policlinico praticamente di fronte al nostro ambulatorio e vicino al reparto di chirurgia toracica consente di ottimizzare, di migliorare ulteriormente questo percorso di cura.